Diverse persone sono state uccise e decine ferite oggi quando una raffica di razzi ha colpito parti densamente popolate di Kabul. Gli ordigni si sono schiantati in varie parti del centro e del nord della capitale afghana, anche vicino alla zona fortificata che ospita ambasciate e compagnie internazionali, poco prima delle 9 del mattino, ora locale. I recenti grandi attacchi a Kabul, inclusi due assalti alle istituzioni educative che hanno ucciso quasi 50 persone nelle ultime settimane, seguono uno schema già visto. I talebani negano qualsiasi coinvolgimento, mentre il governo afghano attribuisce la colpa a loro o ai loro delegati.